Buongiorno, oggi è mercoledì 15, mi sono appena svegliata, sono alle sei e mezzo, qui fuori fa anche un po' freschino, dovremmo andare al mare, dovrebbe venire con lui anche mia zia e speriamo bene perché le previsioni sono quello che oggi pioverà, quindi incresciamo le dita e iniziamo questa giornata. Ieri sono stata benissima, già una sera con mia zia, mi sono divertita un sacco, anche Francesco si è divertita un sacco a giocare con la cucinetta e sono molto contenta. Buongiorno Grazie 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 a tutti Guarda che intelligente Grazie a tutti Grazie a tutti No, noi torniamo qua alla festa E tu rimani a casa Eccole Eccole, le giuste Eccole Oddio scendi che qui c'è tutta la gente che ci guarda Scendi, scendi Madonna Io ci sto guardando lo stesso Nascondici C'è il tagadà, non ci si crede ragazzi C'è il tagadà, no, lì non ci puoi andare No, no, è pericoloso il tagadà Non credo neanche che tu ci possa salire No, io voglio andare Sei troppo piccolo Che palle No, ti fai male, è pericoloso Esci pieno di lividi Un ragazzo si è rotto una gamba Lì sopra un mio amico Non mi metto da nulla A te sei scemo Lì non devi ci si frappi Lì braccio, spalla Mamma mia, lì ti ammazzi veramente Pensavo fosse diventato illegale il tagadà Ah, stavano in piedi E quel ragazzo che si è rotto la gamba Stavano in piedi Mamma mia, però Non ci si possono andare È troppo piccolo Che spazio E comunque se ci vai ti pensi Sappido Non c'è sicurezza 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 un ventaglio si gira meglio stavolta grazie 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 grazie